Buona giornata! Se per la tua gioia hai bisogno del permesso degli altri, sei davvero un povero sciocco, Herman S. Oggi Herman S. ci porta una frase fondamentale, fondamentale, fondamentale per la tua felicità e per la tua pace, per entrambe queste cose. Quindi, orecchio, mi raccomando, se per la tua gioia hai bisogno del permesso di altri, per essere felice te, hai bisogno del permesso di altri, perché? Eh, ma lui sta male, ma lui è qui, ma qui, ma non sai cosa mi succede, io devo fare questo, non posso permettermi di essere felice. Ma perché? Perché? Perché devi mettere nelle mani degli altri la tua gioia? No, te puoi essere felice oggi, puoi essere felice oggi e non hai bisogno del permesso degli altri, puoi essere felice per mille cose. Quindi, se potresti essere felice, ma ti periti per mille motivi, oppure chiedi il permesso, oppure dici, ma posso essere felice? Non vedi il mondo come va, non vedi lui come sta, no. No, sii felice nel momento presente, nel tuo qui e ora, perché per essere tristi c'è sempre tempo. Quindi, oggi prendi consapevolezza di quanto puoi essere felice e datti il permesso. Dattelo te, non aspettare il permesso degli altri. Daniel Pace, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao!